Buvalinese contro il regolamento e quel caso capita proprio lì nell'aria di pelle che abbraccia la sfera invece di stigare il difensore al rinvio della stessa. Punizione in diretta in aria e Rossanese in vantaggio e a nulla è servito agli amaranto alzare il battito cardiaco del cartisano, costringere gli avversari a guardarsi alle spalle più che attaccare, raddoppiare sugli ervasi loro mentre Mammoliti staccava di testa di fronte alla porta. o lanciare Cilea alla cavalcata dopo i recuperi di Bova. Non è servito a nulla presidente Orlando, la rossanese in realtà ha sbagliato molto e costruito poco, mentre ci si aspettava che dominasse fisicamente con i corazzieri che aveva nel reparto offensivo, in realtà anche la squadra di Colle era ridotta all'omicino.